Sul problema della gestione del trasporto pubblico locale le versioni sono contrastanti. Da un lato c'è l'ATM, l'azienda che gestisce l'80% del settore emulise, che ha annunciato di non poter garantire più gli stipendi futuri ai 300 dipendenti a causa dei debiti accumulati. Dall'altro i sindacati, che accusano la Regione di non aver versato alla stessa azienda le somme a copertura del servizio offerto. In ultimo c'è la dura presa di posizione dell'assessore Velardi nei confronti della stessa ATM, L'esponente della giunta Iorio ha spiegato come la Regione abbia emesso due mandati di pagamento in grado di coprire le spese di giugno e luglio per il servizio di trasporto urbano ed extraurbano e che i soldi sono stati stanziati in anticipo proprio per aiutare l'ATM. L'affermazione di voler utilizzare i corrispettivi del mese di luglio per pagare altri e non i dipendenti dell'azienda mi lascia abbastanza preoccupato, ha detto proprio Velardi, che ha chiesto garanzie alla stessa società per continuare a gestire il servizio di trasporto pubblico locale. Ma le federazioni di categoria di CISL e UGL scagionano l'ATM da qualsiasi responsabilità e chiamano in causa la stessa Regione. Non vale nulla anticipare l'emissione dei mandati di pagamento, se poi i finanziamenti risultano solo sulla carta, hanno detto in particolare Giuseppe Sardo e Nicolino Libertone di CISL e UGL. Il sindacato si è detto anche preoccupato perché le finanze della Regione non sarebbero in grado di garantire l'entità del piano minimo dei trasporti. Insomma, la questione resta ancora aperta.